Allora Angel, inauguriamo oggi un segmento nuovo di post-Brexit New Explosion, non direttamente correlato con il UK e con il coronavirus di cui stiamo parlando, ma per avere un'ampia prospettiva inauguriamo un segmento con gli ospiti, un segmento extra. Introducici tu l'ospite di oggi. L'ospite di oggi è un'ospite graditissima, è già Bascego, scrittrice Italo Somala, famosa firma di internazionale e al momento in libreria con il suo La linea del colore edito da Bonpiani. Ciao Ijaba, buongiorno. Buongiorno. Ijaba, cominciamo subito chiedendoti, purtroppo ovviamente la cronaca è la maggiore diciamo in questo periodo, qual è la situazione a Roma? Raccontaci un po' le tue sensazioni e anche da scrittrice diciamo come racconteremo questo coronavirus un domani. No, la situazione è molto molto pesante, soprattutto in Italia, soprattutto nel nord d'Italia. Questo coronavirus è entrato a gambra tesa in un paese che era già fragile economicamente e quindi quello che preoccupa moltissimi, naturalmente preoccupa la malattia, preoccupano le persone che stanno male. Io ho sentito un amico ieri, mi ha detto che è stato due settimane in ospedale ed era giovane, quindi la storia che i giovani non si ammalano non è vera assolutamente, si ammalano tutte le fasce d'età. Però oltre appunto il carico della malattia c'è il carico di chi aveva appunto un lavoro precario, un lavoro in nero, i migranti. Una cosa che si ne parla veramente poco, per esempio tutte le persone che facevano il lavoro di cura hanno perso il lavoro da un giorno all'altro. Le persone, le famiglie per cui lavoravano gli hanno detto guarda stai a casa e stai a casa senza stipendio. Quindi è una situazione che sta attraversando le vite di molti, le sta sconvolgendo e la cosa che emerge sempre di più è questa differenza di classe. Cioè la classe è diventata secondo me la discriminante di questa crisi. Insomma c'è chi si può permettere di dire sto a casa in una piscina come ho visto in un video di Arnold Schwarzenegger col sigaro, la piscina e gli asinelli e chi invece è in venti metri quadri, trenta, quaranta metri quadri, sta in cinque e deve tele lavorare, deve tele studiare e molti non hanno nemmeno un picci per tutta la famiglia, chi non ce l'ha proprio. Quindi temo che questo coronavirus porterà e si aspererà di più nel post coronavirus le diseguagliate che erano già molto forti in Italia. Per quanto riguarda cosa Roma, Roma io non lo posso dire perché Roma nessuno di noi la vede più. Una delle cose che mi manca proprio è Roma. Cioè io ero una che faceva tantissime passeggiate lunghe e comunque manca il contatto con la città, la relazione e temo che mancherà per molto tempo. Cioè non credo staremo a casa mesi e mesi, però per arrivare a una normalità ci vorrà tempo e non è una situazione facile soprattutto se pensiamo che l'Italia si stava lentamente risollevando dalla crisi del 2008. Quindi è una situazione difficile. Tu hai anche scritto un articolo per Lit Hub invitando i cittadini statunitensi a stare in casa dalla prospettiva di Roma in questi giorni. Ti volevo chiedere riguardo la prospettiva invece per collegarsi anche ai temi di post Brexit News Explosion. Qual è la tua prospettiva sulle notizie e lo sviluppo del coronavirus qui nel Regno Unito? Anche dalla prospettiva della diaspora somala e da come questo ha temprato la comunità e anche allo stesso tempo la tua prospettiva considerando il fatto che parte della tua famiglia vive qui nel Regno Unito? Allora sì, io ormai ho un'esperienza di relazione con il Regno Unito appunto perché ho tantissimi parenti. Io ho tantissimi parenti ovunque e nel Regno Unito e nelle fattispecie vive il mio fratello e la famiglia e tantissimi cugini ma ecco ho fratelli negli Stati Uniti, in Australia quindi ho sempre il polso della situazione anche del quotidiano e io mi sono resa conto che mentre in Italia appunto lanciavamo questo allarme che era un'allarme globale, no? Guardate c'è il coronavirus, guardate siamo in lockdown e io notavo proprio che la mia famiglia in Gran Bretagna viveva come ha sempre vissuto tutti i giorni, no? La quotidianità e questa cosa mi preoccupava, mi preoccupava per la loro salute soprattutto e poi anche la cosa più preoccupante è lo stato dell'NHS, cioè il servizio sanitario comunque italiano con tutte le sue PEC e anche gli errori che evidentemente si sono stati fatti in Lombardia, è stata una situazione anche molto particolare, però ecco il servizio sanitario italiano è molto molto migliore di quell'inglese e quindi questa cosa mi... perché io quello britannico non è che lo dico dalle statistiche, l'ho vissuto, ho vissuto persone della mia famiglia che si sono ammalate, sono state tante volte in ospedale e ho avuto a che fare con medici, io penso di aver conosciuto la Gran Bretagna prima attraverso i libri vari genosti nel Dickens e poi attraverso l'NHS, quindi è proprio stato... è una cosa che conosco bene, cioè ed è un sistema non perfetto e io ho pensato, oddio, col coronavirus potrebbe potrebbe soccombere questo sistema sanitario britannico, no? E quindi ero molto 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 preoccupata e molto preoccupata e ho cominciato appunto a parlarne in famiglia, a fare io un po' a prepararli a un lockdown che io appunto speravo speravo arrivasse e perché all'inizio, se ricordate bene, in Gran Bretagna si è parlato di immunità di gregge, che deve essere appunto una grandissima strage in realtà, no? E in quei giorni ho scritto un post che credo che sia uno dei post che ha preso più like nella mia vita, tipo 700 pass e sull'NHS e sul fatto che comunque dietro le parole di Boris Johnson io ci ho visto proprio un cinismo mercantile, no? Un cinismo veramente prima il profitto e poi forse le persone vulnerabili, cioè come no? La società, alcune persone possono essere sacrificate e però il profitto no? La city si deve salvare ad ogni costo e questo è successo pure nel piccolo in Italia all'inizio, no? Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, secondo me se fermavano Bergamo prima forse non saremmo in questo guaio adesso, no? Però ecco questa idea del profitto neoliberale è qualcosa che che sta distruggendo le popolazioni e quindi io ero veramente preoccupata e adesso sono un po' meno preoccupata chiaramente perché anche la Gran Bretagna mi sembra che la situazione è stata ricevuta, il messaggio è arrivato, però questo mi ha fatto anche capire quanto ognuno di noi non sia solo il proprio paese, il paese in cui vive, io appunto sono appunto di origine somala e italiana, già questo mi fa partire con due paesi, ma poi ormai ero attaccata alle notizie sulla Gran Bretagna come se vivessi là e ma perché c'è la mia famiglia, quindi questi sono i nodi diasporici che che fanno parte della vita non solo mia ma anche vostra, no? Io penso che pensate ai vostri parenti in Italia, quindi è la stessa cosa. Ijava, leggevo a proposito appunto della tua storia di vita, un bellissimo articolo che hai scritto nel 2017 su Internazionale in cui raccontavi come era vivere la vita in Italia con la guerra in Somalia, con vicissitudini familiari molto desanti e anche tutti gli strascici psicologici che si è portata dietro questa esperienza di vita. Ora ovviamente con le dovutissime differenze, psicologicamente come ne usciremo e anche a livello di solidarietà tra i popoli, come ne verrà fuori soprattutto l'Italia che ultimamente non si è dimostrata un paese molto solidale nei confronti del prossimo. Allora, no, questo non è vero totalmente, cioè l'Italia è invece, allora, un conto è la politica, no? Un conto è quello che la politica sia in Italia, sia in Europa fa, no? Penso alla questione migrazione, no? Però le persone, le persone, le singole persone, ma anche singole organizzazioni, sono solidali e come? Basta vedere come alcune ONG, penso a Medici Senza Frontiere, penso a Emergency, che si sono spese in questi anni verso appunto le migrazioni, i migranti. Oggi sono in prima linea a Bergamo, a Brescia, a Cremona e qui a Milano. Quindi, sai, io ho sempre avuto questa sensazione che in Italia ci fosse una grande solidarietà e che quella solidarietà ha permesso al paese di non soccombere completamente, no? Cioè noi abbiamo avuto un'esposizione mediatica all'odio molto forte in questi ultimi anni, però se poi andavi negli luoghi, negli spazi, vedavi comunque tanta gente che insegna l'italiano, che fa dei progetti, che fa molto antirazzismo pratico, no? Quindi non è tutto così. Un altro conto è il livello politico, lo vediamo anche banalmente in quello che succede in Europa, no? Adesso, dove c'è questa guerra tra falchi che sono molto intransigenti e che stanno veramente quasi distruggendo questo progetto europeo, un progetto che ancora, una mia amica giustamente mi ha spiegato, non è che l'Europa è finita, l'Europa non è ancora iniziata, cioè dipende da noi costruirla, no? Allora, non stiamo andando nella direzione giusta, perché comunque quello che sta uscendo fuori sono i tantissimi egoismi nazionali e non solo nazionali, a volte di partito, cioè a volte di legati a alcuni leader politici rispetto ad altri. Invece, soprattutto in questa fase, penso che l'Europa abbia bisogno di creare qualcosa di più solidale, no? Ed è questo che mi preoccupa, che a livello politico non si capisce che questo è un momento cruciale della storia, che questo o si va avanti tutti insieme, o si soccombe tutti insieme. Quindi, cioè, ci sono quei snodi storici che sono veramente, veramente importanti. Io però, sul post-coronavirus, veramente è un mistero veramente per tutti, perché chiaramente saremo cambiati e cambierà molto la vita di ognuno di noi e cambieranno molto anche gli ambiti lavorativi in cui ognuno di noi opera, no? E questo cambiamento potrebbe essere negativo o positivo, ma dipende appunto da tutti noi, da tutti noi. Volevo chiederti, dato che poi ne facevi riferimento e comunque essere centrale anche nei temi che tratti, sia nei tuoi romanzi, chiaramente, che nei tuoi articoli. Quanto cambia, a tuo avviso, la prospettiva sulla migrazione, il discorso sulla migrazione in Italia al momento, in questa crisi, specie poi considerando il fatto che la destra di, come la destra di Salvini e Meloni, avevano portato, cercato di utilizzare questa, la crisi attuale per vantaggi e fine elettorale. Più Salvini che Meloni, tutto ne sta. E in generale cosa significa adesso cercare di arrivare in Italia in questa fase, a tuo avviso? Allora, la cosa inquietante che sta succedendo, io penso non solo in Italia, ma un po' in tutti i paesi, è che i migranti dal giorno, da subito, sono scomparsi, semplicemente, cioè sono scomparsi dal discorso pubblico, sono scomparsi dal discorso mediatico, come se tutto fosse risolto. In realtà non è risolto niente, anzi, forse le condizioni sono anche peggiorate, io penso per esempio alle persone che sono rinchiuse nei campi orrendi in Libia, non è che sono usciti e stanno bene dai quei campi, stanno ancora in quei campi con in più il pericolo del virus, lo stesso alla frontiera tra Grecia e Turchia. I migranti non sono scomparsi, semplicemente adesso non sono più il centro del discorso politico e mediatico, non interessano, però le loro vite sono sempre, sempre in pericolo. Basta guardare chi copre la crisi appunto nella frontiera Grecia-Turchia, sta succedendo di tutto di più, violenze, quindi questo è un fattore problematico. E sono scomparsi però i migranti anche nei paesi in cui appunto il perverso del coronavirus, in Italia e in altri paesi, girava questa fake news che gli africani non si ammalano di coronavirus, cosa che assolutamente non è vera, non è che siamo le essere bionici, purtroppo tutti gli esseri umani si ammalano. Quindi o esci fuori come discorso anedotico fake news o non esisti. E in realtà io sono veramente preoccupata per la condizione dei vari migranti, sia quelli che sono arrivati vent'anni fa, sia quelli che sono arrivati da poco, perché le nostre città questo coronavirus ha fatto vedere le contraddizioni della nostra vita e noi la chiamavamo normale, ma di normale non aveva niente. Le nostre città sono città a volte di esclusione, quindi abbiamo i senza fissa dimora che all'inizio di questa crisi sono stati multati, ma non possono stare a casa, non c'è casa. E lo stesso per moltissimi migranti che vivono in case occupate, in situazioni borderline, che fine hanno fatto, chi pensa a loro, chi pensa alla loro salute e soprattutto negli ospedali, io non ci sono negli ospedali, quindi non lo posso dire, ma immagino immagino siano finiti tanti migranti, alcuni forse non sanno nemmeno la lingua, cosa sta succedendo? Ci sono dei mediatori culturali? Cioè, di questo non sappiamo assolutamente nulla ed è molto difficile, io ho cercato di capire, di sentire, però nelle zone rosse è proprio difficile capire cosa sta succedendo anche da questo punto di vista e invece per quanto riguarda le persone che uno conosce, insomma, a volte arrivano anche delle notizie tristi, no? È morto per esempio una grande figura di un mediatore culturale, mediatore proprio dell'animo che si chiamava Seku Diabate e Seku era una persona che a Roma conoscevamo tutti, era della costa d'Avorio, era una grandissima persona, credo che ha fatto ballare mezza Roma, ha fatto conoscere la musica afro e lavorava come interprete, veramente un uomo pieno di vita però il coronavirus lo ha portato via, cioè tecnicamente cominciano ad arrivare anche queste notizie che molte persone che erano anche dei punti centrali della vita della migrazione romana, italiana, eccetera, stanno appunto anche loro soccombendo al virus, lo stesso è successo a un mediatore culturale a Modena, quindi la situazione delle comunità secondo me è complicata e un'altra cosa che volevo aggiungere è che molte comunità non hanno capito fino in fondo la situazione e questo lo dico a livello europeo, in Svezia sono morti per coronavirus parecchi somali perché a nessuno di loro era stato effettivamente spiegato la distanza da tenere la Svezia non è in lockdown quindi tecnicamente ha dato delle direttive su appunto la distanza eccetera eccetera e a molte di queste persone nella comunità somala questo non è arrivato e questo è significato la morte di alcuni allora serve molto spiegare anche in lingua e fare uno sforzo di spiegare alle varie persone delle varie comunità che in bengalese quanto in somalo quanto in arabo quanto in qualsiasi altra lingua mi viene in mente spiegare cosa sta succedendo per esempio il sindaco di Minneapolis nel Minnesota ha fatto un discorso in somalo questa cosa mi ha molto colpito l'ha fatto molto male cioè perché la pronuncia era abbastanza terribile però si è fatta aiutare e poi quella cosa che lui ha detto è stata anche scritta e secondo me molta gente l'ha visto un po' anche per vedere quest'uomo americano che parla in somalo e attraverso questa escamotage però poi gli ha fatto arrivare tutta una serie di notizie tipo lavarsi le mani una distanza eccetera eccetera questo secondo me i sindaci dovrebbero fare tutti cioè perché i cittadini soprattutto in una pandemia non c'è un cittadino di serie A o di serie B straniero o italiano europeo esistono i cittadini tutti e tutti devono per la salvaguardia di tutti sapere cosa fare e per la salvaguardia di se stessi sapere cosa fare quindi il dovere dell'istituzione è informare tutti io temo che in questa pandemia invece non sono stati informati proprio tutti e questo vale per l'Italia come per la Svezia anzi la Svezia ve l'ho proprio raccontato forse in Italia è arrivata un po' di più la notizia perché c'è stato subito il lockdown Ijava a proposito di questo a Londra si stanno sviluppando un sacco di iniziative anche a livello locale per aiutare appunto il prossimo ovviamente in linea con le direttive del governo per portare la spesa e più anziani che non possono uscire di casa sai di qualche iniziativa simile a Roma in Italia che ci vuoi consigliare? Sì sì ce ne sono tantissime di iniziative tantissime la spesa appunto eccetera ma anche iniziative tipo ieri qualcuno mi ha chiesto sto passando un'ambulanza no no passano tantissime questo è per dirvi che ormai è un continuo e ieri proprio mi hanno chiesto da Brescia di fare una lettura per aiutare l'animo della città una delle letture un po' allegre ci sono anche queste iniziative magari molto alcune molto concrete che appunto la spesa e altre molto più leggere però che in questo momento aiutano l'animo perché poi una cosa da dire è che ci sono tanti modi tante differenze nel lockdown italiano un conto è vivere in Lombardia in Lombardia è proprio come stare al fronte a me non piace il linguaggio bellico però veramente in Lombardia è un fronte aperto contro appunto un virus e chi vive a Milano chi vive a Bergamo chi vive a Gallarate chi vive in quelle zone là sente un peso che forse nessuno di noi qui né a Londra né a Roma sente cioè sentiamo il lockdown stiamo dentro casa ma per esempio nel Lazio i casi sono tanti ma non sono tantissimi è una cosa abbastanza gestibile e non è la stessa cosa che la Lombardia quindi abbiamo anche differenze territoriali abbiamo anche delle zone a zero contagio in Italia per dire e credo che l'animo si affrontano queste cose dipende anche molto dalla geografia adesso io penso sempre alle persone che stanno a Bergamo Brescia in quelle zone là ci sono anche amici genitori di amici e spero appunto che questa cosa prima o poi finisca e poi chiaramente tutti noi ci dovremo preparare al dopo che non sarà un'uscita breve da questa crisi e io lo sto dicendo alle amiche alcune amici anche alcuni appunto fanno ancora resistenza cioè pensano che subitissimo torneremo alla vita di prima invece ci sarà un momento di passaggio tra appunto la fine del diciamo dell'emergenza e l'arrivo a un vero dopo cioè sarà un dopo intermedio diciamo che non sarà facile da attraversare ma appunto dovremo attraversare Angelo vogliamo chiudere con il consiglio alla lettura che poi sarebbe l'ultimo libro di Jabba oggi sì certamente certamente dato che peraltro si collega anche a uno dei temi che ti è più caro i Jabba che hai trattato anche nel tuo il tuo romanzo nel tuo romanzo hai trattato hai trattato i temi del colonialismo e appunto tu al momento sei in libreria con la linea del colore edito da Bonpiani e ti vorremmo chiedere quanto e cosa ci dice un romanzo sulla diversità ambientato nell'ottocento e quanto questo si collega anche con la narrativa dei period dramas di cui scrivesti su internazionale nel 2016 prima del del referendum sull'Unione Europea quindi quanto le due cose si collegano e quanto si collega anche sul discorso coloniale specie nel Regno Unito del quale i sondaggi testimoniano che tuttora la nostalgia coloniale è un sentimento molto forte allora tu Angelo mi hai detto sei in libreria ecco non sono cioè sono in libreria ma le librerie sono chiuse è una cosa importante da dire perché molte librerie sono molto in affanno soprattutto le piccole e medie vivono un momento credo tragico anche tutta l'editoria però le librerie soprattutto e si stanno moltissime attrezzando per comunque anche se sono chiuse consegnare libri appoggiarsi ai tabaccai per esempio la libreria Arcadia di Rovereto sta facendo un kit un kit di pronto soccorso un pronto soccorso letterario e mettono nel loro sito anche le altre librerie che sono che fanno più o meno la stessa cosa e devo dire che questo ho visto molta solidarietà tra gli operatori culturali perché sarà proprio una fetta di mercato da riprendere cioè un ambiente che in tutti i suoi livelli sta subendo una crisi forse mai vista e per quanto riguarda invece il mio libro io chiaramente sono contenta che sia uscito paradossalmente che sia uscito in questo disastro perché molte persone mi stanno mi stanno scrivendo che uno dei momenti migliori della giornata e quando mi leggono questo per una scrittrice è una cosa molto importante cioè ti riscalda veramente il cuore e pensi che il lavoro che hai fatto non è andato perduto e il libro è chiaro parla di tantissime cose parla di questa donna la Fanu Brown che decide di diventare pittrice di coronare il suo sogno però è una donna nera nell'ottocento statunitense afroamericana e quindi ha tantissime ostacoli davanti a lei io mi sono ispirata a due donne realmente esistite che realmente hanno vissuto in Italia esattamente a Firenze a Roma Edmonia Lewis che era una scultrice e Sara Parker Raymond che era un'abolizionista ostetrica e attraverso questo o attraverso questo proprio studiando queste due donne ho creato la mia personaggia di finzione io dico sempre personaggia finzione però era per spiegare il viaggio ed è stranissimo aver scritto un libro sull'Italia sul viaggio in Italia sul viaggio anche della migrazione perché si intersecano il fatto dei passaporti forti dei passaporti più deboli ed è stranissimo forse io penso che sia anche un po' straniante per molti leggerlo adesso proprio in un momento in cui siamo tutti sigillati non in un confine ma in un confine domestico e quello in qualche modo che io tentavo di spiegare nel libro adesso purtroppo lo stiamo anche vivendo cioè l'impossibilità di viaggio che vive la mia la Bintin nella parte contemporanea del libro che è una ragazza somala che decide di venire in Europa e non ci riesce effettivamente adesso quell'esperienza lì la possiamo capire tutti attraverso il nostro corpo è chiaro che non siamo Bintin però in qualche modo stiamo tutti sperimentando cosa significa la non mobilità ecco perché io spero ecco perché io spero che nel post coronavirus una delle cose che deve cambiare che noi dobbiamo chiedere che cambi è sia è proprio la mobilità cioè non deve essere più una mobilità esclusiva di una parte del mondo ma deve essere una mobilità inclusiva di tutti uno scambio perché a me piacerebbe che i studenti italiani andassero a studiare in Africa per esempio uno studente in medicina che visto che abbiamo avuto questa epidemia uno studente in medicina potrebbe fare uno stage in Nigeria per studiare i protocolli di ebola per dire no perché in Nigeria hanno funzionato i protocolli di ebola è un caso studio virtuoso quello della Nigeria su ebola sarebbe bello che un ragazzo italiano andasse a studiare là e un ragazzo nigeriano venisse a studiare in Italia cioè io vorrei questa cosa uno scambio tra i popoli e non la chiusura e la cosa quello che abbiamo chiamato normalità io no l'abbiamo chiamato normalità fino al giorno prima quando la gente soffriva nei lager e continua a soffrire quindi il libro è chiaramente un fogliettono ottocentesco con innesti di contemporaneità però scritto proprio con quest'ottica e scritto anche con un'ottica di una storia anche bella con colpi di scena cioè comunque il cliché ottocentesco c'è tutto però per spiegare appunto una situazione che è stata tremenda e forse ritornerà ad essere tremenda quindi dipende da noi vigilare perché perché comunque anche in questi giorni la gente continua a morire di viaggio in Mozambico hanno trovato un camion pieno di corpi di persone che appunto erano migranti erano in viaggio e quindi non è che si è smesso di morire per il viaggio si continua a morire di viaggio soltanto che le telecamere non inquadrano più non inquadrano più questa sofferenza quindi noi non dobbiamo dimenticarla e dobbiamo tenere il punto su questo affinché dopo se ci sarà quando ci sarà questo dopo costruiamo qualcosa di diverso Igiaba grazie mille per questa chiacchierata niente ci aggiorniamo ci aggiorniamo presto anche con Angelo sperando che questo è un brutto periodo passi presto leggete leggete tanto questo è quello che possiamo consigliare a tutti grazie leggete la linea del colore grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti